250 attività ricettive e extraalberghiere controllate, 17 sanzionate con un totale di 212 mila euro di multe in quanto risultate totalmente abusive. E' questo il bilancio dei controlli effettuati in tutta il Nuorese dai carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro nell'ambito dell'azione di contrasto all'abusivismo commerciale. Al centro dell'operazione il fenomeno delle case vacanze affittate in nero e dei bed and breakfast abusivi che anche nel Nuorese e Nogliastra negli ultimi anni sono cresciuti in maniera esponenziale, tanto che le associazioni di categoria hanno sollecitato l'intervento della Prefettura che ha messo in piedi una serie di accordi con i comuni e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Su 250 strutture controllate, 17 sono risultate del tutto abusive. 9 gestori sono stati denunciati alle procure della Repubblica competenti per non aver comunicato le generalità degli ospiti e le autorità di pubblica sicurezza, impedendo in un periodo di massima allerta per l'ordine pubblico il monitoraggio delle persone che soggiornano in provincia. Due strutture sono state sanzionate amministrativamente per irregolarità varie di settore. Le posizioni interamente irregolari, 17 in tutto, sono state segnalate ai comuni competenti ad irrogare le sanzioni amministrative. Le aree a maggior abusivismo sono state individuate in Barbagia, in particolare nei comuni di Oliena, Orgosolo e Mamuiada, con ben 9 strutture abusive in totale, a seguire dalla costa orientale tra Baronia e L'Ogliastra, 7 strutture abusive tra i comuni di Sant'Odoro, Galtelli, Baonello e Lozzorai. Una struttura abusiva invece è stata individuata a USA-SAI. I controlli di quest'anno hanno portato a risultati operativi di fatto quasi dimezzati. 17 strutture sanzionate nel 2018 contro le 30 del 2017. Questo, secondo i carabinieri, si spiega con l'avvenuta tendenza alla regolarizzazione di molte strutture a seguito dell'attività di controllo svolta dall'arma nel 2017.